ciao a tutti ragazzi siamo qui con un nuovo snack di daiso yellow panda ovvero dei biscottini con il ripieno di fragola sul lato troviamo le informazioni nutrizionali mentre sul retro troviamo gli ingredienti all'interno del packaging c'era questo sacchettino e all'interno del sacchettino troviamo i biscottini e come potete vedere hanno un disegnino e questo è per esempio il panda che gioca a baseball e ce n'è altri adesso assaggiamo buoni originali anche perché hanno diversi sport sul biscottino si sente molto il gusto del ripieno alla fragola e se li trovate vi riconsiglio io intanto continuo a mangiare questo qui penso stia giocando a ping pong il video di oggi finisce qui ci vediamo al prossimo video se questo vi è piaciuto sostenetemi mettendo un mi piace commentando e anche condividendo il video se volete in descrizione vi lascio tutti i link ai miei social in particolare vi ricordo che uso molto spesso facebook e instagram e adesso sto cercando anche di fare delle live su periscope ma mi serve un po' più di spettatori e vi lascio con l'ultimo che è il panda sullo skateboard ciao 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 ciao